Lorenzo Migliorati, avete scritto una lettera al Sindaco di Castione, Vittorio Vanzan, che riguarda di nuovo il problema delle scuole di Dorca, perché? Noi abbiamo scritto perché tutta questa vicenda da quando è nata, più o meno alla metà di dicembre, ha messo chiaramente in evidenza la superficialità di questa amministrazione all'affrontare un problema così delicato come la sicurezza degli edifici scolastici. Durante l'assemblea organizzata dai genitori dei bambini delle scuole di Dorca del 29 dicembre scorso, il Sindaco ha preso pubblicamente l'impegno di dare vita a quella proposta che abbiamo fatto noi come gruppo consigliare di costituire un tavolo di discussione e di confronto sul futuro delle scuole nel territorio del Comune di Castione della Presolana. Ora, da allora ad oggi non abbiamo più avuto segnali e non abbiamo avuto alcun tipo di risposta. Ci è sembrato giusto tentare di battere il ferro finché è caldo, perché crediamo che sia davvero importante avere delle risposte chiare in merito ai problemi che abbiamo sollevato. Che cosa chiedete? Noi chiediamo sostanzialmente che la maggioranza e il Sindaco ci dicano che cosa vogliono fare dell'edificio scolastico di Dorca. Lì si può intervenire con un intervento, chiamiamolo tampone, di messa in sicurezza dell'edificio, che è un intervento che costa relativamente poco e che richiede relativamente poco tempo. Vogliamo sapere se è intenzione dell'amministrazione procedere a questo intervento per riaprire la scuola magari già prima della fine di questo anno scolastico. Vogliamo sapere se è intenzione dell'amministrazione riaprire il plesso di Dorca eventualmente per l'anno scolastico prossimo, quindi da settembre 2010. E in subordine vogliamo sapere se è intenzione dell'amministrazione procedere alla costituzione di quel tavolo di discussione di confronto che ci permetta di avviare un confronto sostanzialmente sul futuro delle scuole. Quindi decidere ad esempio se è il caso di continuare con i tre plessi scolastici oppure se è il caso di cominciare a pensare seriamente al polo scolastico unico. Come giudicate la soluzione provvisoria adottata dall'amministrazione comunale, cioè quella di trasferire gli alunni a Castione? Beh è indubbiamente secondo noi una soluzione per l'appunto provvisoria nel senso che la sistemazione è comunque precaria perché i ragazzi e i bambini condividono lo stesso edificio scolastico dai ragazzi e dalle scuole medie. Questo crea, in mezzo a tutto questo poi c'è anche il problema del trasporto che pur organizzato bene indubbiamente crea dei problemi ai bambini e anche alle famiglie sugli orari e sull'organizzazione dei tempi delle famiglie stesse. Per cui a maggior ragione noi vogliamo avere delle risposte chiare su quello che l'amministrazione intende fare per risolvere anche questi problemi che comunque devono essere problemi che necessitano di una soluzione, io dico nell'immediato.